Benvenuti ad ATH! Oggi vedremo una cosa nuova, come sellare il cavallo. E' una cosa che sicuramente saprete già, è una cosa che fate tutti i giorni per cavalcare il vostro cavallo, però oggi cercheremo di vedere in maniera corretta come sellare un cavallo. Utilizziamo sempre il nostro Tor, che ormai è più che abituato. E vediamo bene. Cominciamo dal sottosella. La posizione corretta per il sottosella è circa appena oltre la metà della spalla. Se noi consideriamo come un cerchio la sua spalla, cerchiamo di tracciare la sua metà, il sottosella dovrebbe essere leggermente oltre la metà. Deve essere ben centrato e controlliamo che le fasce di cuoio, che devono proteggere la parte dove scorreranno le gambe e dove poggerà la sella, siano messe ben centrali. Dopo di che prendiamo la sella. Per facilitarci il lavoro possiamo mettere tutto quello che non ci serve sopra la sella. E utilizzando un movimento circolare lanceremo la sella sulla schiena del cavallo, facendo ben attenzione a non spaventarlo. A me piace addestrare i cavalli che restino fermi mentre li sellono. Non devono essere legati, non devo avere la necessità di avere un posto in cui legarli. Per cui mi piace che siano fermi e rilassati anche mentre li sellono. Per cui prendo la sella, mi metto contro la sua spalla e faccio una rotazione. Come vedete l'assetto corretto di una sella dovrebbe essere orizzontale. Se vediamo che la sella ha un assetto diverso, ad esempio viene verso il basso, come in questo caso, vuol dire che la sella è troppo in avanti. Quindi farà delle pressioni sbagliate sulla schiena del cavallo, rischiando di fiaccarlo. Viceversa se la sella è troppo indietro avrà un andamento verso il basso. E quindi anche in questo caso non andrà bene. La posizione corretta è quando la sella è orizzontale rispetto alla schiena del cavallo. Vuol dire che sta appoggiando correttamente sulla sua schiena e sta distribuendo il carico in maniera omogenea. Controlliamo bene anche che sotto l'arcione ci sia dello spazio, lo spazio per infilare una mano. In questa maniera non andremo a fiaccare il cavallo sul garese, specialmente se è un cavallo con il garese pronunciato. Ora vedremo dall'altra parte invece sganciamo il pettorale preparandoci ad agganciarlo poi. Prendiamo il sottopancia che lo metteremo dalla parte dove c'è l'asola. Infiliamo sul latigo, su questa cinghia corta di cuoio qua. Il sottopancia dovrà essere messo in modo che questi due anelli centrali vadano al centro della pancia del cavallo. Quindi prendo le misure, stringo, passo il latigo dentro l'asola, ricontrollo. Vedo in questo caso ad esempio che è troppo lungo, quindi accorcio di un altro buco e ricontrollo. Ok, in questo momento ripassiamo dalla parte di là e andiamo a fissare il sottopancia. Ci mettiamo la staffa sul pomolo, se siamo su una sella americana. Prendiamo il sottopancia e facciamo scorrere il latigo di qua. Stringiamo bene, controlliamo che sempre la zona del guerriere sia libera, possa sempre passare una mano. Ripassiamo di nuovo il latigo qui dentro e di nuovo nel sottopancia. E stringiamo. Se abbiamo bisogno, se c'è necessità, possiamo fare ancora un altro giro. Dipende dalla lunghezza del latigo, del sottopancia e delle dimensioni del cavallo, chiaramente. Quindi stringiamo quel tanto che ci basta, perché la sella non si giri. E fissiamo sul gancio apposito. Solo adesso procederemo a mettere, a fissare il back cinch e il pettorale. Sono le ultime cose da mettere. Per prima cosa deve essere sempre il sottopancia. Per quale motivo? Perché se la sella dovesse muoversi per una qualsiasi eventualità, per un movimento suo, e non avessimo ancora fissato il sottopancia, ci sono altre probabilità che il cavallo vada in panico e, oltre a farsi male lui, vi distruggerà la sella. Questo non penso che sia una cosa da augurarsi. Quindi passiamo al back cinch, il sottopancia posteriore. Lo agganciamo. Il pettorale. E lo agganciamo. E concludiamo fissando il pettorale. Il pettorale non deve essere troppo stretto. Deve avere un po' di gioco qui davanti, in modo da non strozzare il cavallo nel caso dovesse scendere con la testa. Questo perché, se vogliamo, il cavallo che lavora a testa bassa e il pettorale troppo stretto, vedete che già questo tende un po' a stringere. Quindi deve avere un po' di gioco. Oggi c'è un po' di vento e è un po' sospettoso sui rumori che sente. Passiamo al back cinch. Lo recupero. E lo fisso. Anche il back cinch, come il pettorale, deve avere un po' di gioco. Non deve essere troppo stretto né troppo largo. Troppo stretto rischierebbe di fare un rodeo. Troppo largo rischierebbe di mettere una gamba posteriore dentro e farsi del male. Controlliamo bene che sia tutto a posto, sia tutto ben saldo, prima di salire, in modo da prevenire eventuali danni, prevenire rotture. Controllate sempre che la vostra attrezzatura sia in ordine, sia a posto, non abbia principi di rottura. Nel caso riparatele prima. Non aspettiamo di farci male. Prima di salire faremo fare alcuni passi al cavallo che si sgonfierà e poi andremo di nuovo a ritirare il sottopancia. Qual è la dimensione giusta del sottopancia? Sottopancia ideale, vediamo se dalla telecamera si riesce a vedere, è quello che riesce a raggiungere i punti più larghi della pancia del cavallo. Quindi, visto da di fronte, dovrebbe toccare le parti più distanti, le parti più larghe della sua pancia. In quel punto vuol dire che il sottopancia sta facendo il suo lavoro, sta lavorando bene. Se fosse più basso sarebbe troppo corto, se fosse più in alto sarebbe troppo lungo. Questo per oggi è quanto e ci rivediamo al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.